e buonasera amici buonasera a tutti amici e carissimi allevatori oggi 4 febbraio 2018 vi faccio vedere qualche immediata con i pullus e andiamo a vedere i miei five vediamo se posso prenderle questi sono i miei due file che io perché a me piace fare perché a me piace fare vediamo come perché a me piace fare l'invecco c'è l'altro che dorme sono stupendi stanno bene benissimo e prendo un altro fogliettino però non è che non lo dovete fare lo faccio io perché a me piace fare ora andiamo a posare i miei file ok amici e prendiamo i gialli mosaici che la mamma è fuori mamma e papà si vede un po' scuretto perché io sono senza luce comunque li prendo vedete dormono dormono li rimetto di nuovo qua così non possiamo rifare si vedono il gess bellissimi amici questa è la pappina adatta all'oro che ho comprato per loro guardate che sono stupendi come mangiano si dovrebbe fare due volte al giorno ma a volte io faccio ci basta una volta non è che si deve fare obbligatorio piace falle me li vedo crescere così di giorno in più gli vado a posare la mamma poi prendo gli agata rosso mosaico papà e mamma sono questi non si vede bene per niente vedete non so se si vede mi viene male a fare il video mamma e papà di fronte andiamo a prendere gli agata rosso mosaico vedete 寮gitte che ne sono 3 punti vediamo vediamo se con성ano rip 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 por li non si vede lato ti piace a dormire ecco a altro pochettino va bene ragazzi agata rosso mosaico crescono e crescono bene ragazzi qua ce n'è uno di bianco è nato ieri ed è solo dai non so se si vede aperto la bocchina boccuccia scusate ma io con l'italiano non è che vado tanto d'accordo io voglio parlare il mattino anzi un saluto agli amici dello zen di speracavallo mondello marinella tomosa natale mondiale via p3 e tutti gli amici che mi conoscono di sicuro dimentico a qualcuno ma ragazzi io sono fatto così dai vabbè non ne vuole ok un saluto a tutti un bacio allora ragazzi siccome ieri sono nati alcuni bonus piccolissimi e poi vi faccio vedere che e io oggi ho preparato un po di uova e io ho schiacciato con tutto il guscio albume e il rosso siccome sono piccoli gli mescoli sono passano morbido e uova o per quanto riguarda quelle più grandi vedo sempre semi germinate con il pastone secco bastone secco semi germinati e un po di uova va bene così amici un saluto ce l'ho tutti in cova questi sono i costa di un amico di mondiale amico ci hanno quattro uova speriamo bene vabbè allora lì avete conosciuto i fife i miei fife gli altri fife niente la coppia di giallo intenso con il bianco hanno quattro uova piene poi se una coppia di bianco recessivo con bianco dominante hanno tre uova uno e fecondo ragazzi 11 e fecondo va bene poi la mia coppa di scotch tutti gli altri sono tutti in cova giallo mosaico la mediata che vi ho fatto vedere poco fa con i pollus qua ci sono gli altri giallo mosaico che hanno le uova qua ci sono gli agata rosso intenso combinato con isabella rossa abbinata che hanno le uova questi sono gli agata dal rosso mosaico che hanno le uova bianco che solo senza maschio l'ho fatto ho fatto peso maschio assalto questa è una rossa mosaica sola che devo usare un maschietto di loro lo vediamo io volevo fare vedere ultime il rosso mosaico il repullus fanno benissimo vediamo questo già aperto la bocca subito questi dormono arriva la pappa dai eccolo questi sono il rosso mosaico sono in ottima forma anellati anche loro va bene un bacio a tutti amici scusate scusate amici se ho dovuto posare i miei canarini i miei polletti va bene questa è la coppia c'è la mamma c'è la mamma e papà che tengono tre pulis un saluto a tutto da caspare e gli amici un bacio a tutti amici